Grazie. Allora, oggi siamo qua a parlare dell'interpellanza prima firma della mia collega Adali Lanesci, che noi sottoscriviamo, per parlare delle nomine del Consiglio di Amministrazione della SACAL-SPA, società capitale misto che si occupa della gestione dell'aeroporto di La Mezzia Terme. Cos'è successo? Che la SACAL ha nominato tre nuovi consiglieri di amministrazione per sostituire quelli di missionari indagati e li ha scelti tutte e tre uomini, andando a costruire un'amministrazione fatta di cinque componenti, tutti al maschile. E quindi qual è il problema? Il problema è che ciò viene in violazione delle norme di composizione di genere dei consigli di amministrazione, quindi non si può fare. Altra violazione si ravvisa nella nomina del dottor Arturo De Felice, designazione effettuate rappresentanza del socio pubblico Regione Calabria, che appare contraria alle regole di cui si è dotata la Regione stessa, con proprio regolamento che prevede la previa pubblicazione di avviso pubblico che invece non c'è stato. Quindi di fatto stiamo parlando adesso di nomine che sono illegali, che non sono legittime. Intervenire quindi sulla SACAL per imporre l'applicazione di una legge dello Stato è innanzitutto un segno della presenza dello Stato stesso nei confronti di un territorio difficile come quello calabrese, nei confronti di un'azienda che a causa dei suoi ex amministratori dimessi si è ritrovata al centro dell'operazione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, denominata Eumenidi. Un'operazione complessa che vede gli indagati accusati di reati che vanno dalla corruzione, dal peculato fino al falso, abuso di ufficio e varie forme di concussione. Quindi il caos regna oggi nella SACAL e purtroppo è lo specchio del caos dei servizi di trasporto calabresi. Perché ormai lo sappiamo, in Calabria i trasporti aerei, ferroviari, stradali, interni sono un disastro, che forse sta bene a quanto pare al sistema, alla politica, ma soprattutto sta bene all'andrangheta. La situazione è vecchia e nota, benché i governi centrali e regionali cerchino di nasconderlo, di raccontarla, diciamo, in termini diversi. Quindi siamo qua a chiedere cosa intende fare la sottosegretaria e il governo per far rispettare la legalità. La ringrazio. La sottosegretaria di Stato, Paolo De Michele, facoltà di rispondere. Prego. Grazie, Presidente. La composizione degli organi collegiali, stando alla normativa di riferimento, ovvero sia l'articolo 3 del DPR 251 del 2012, deve assicurare l'equilibrio tra i generi, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo sociale. Tale quota è tuttavia ridotta ad un quinto per il primo rinnovo degli organi. L'articolo 4, peraltro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro delegato per le pari opportunità, i compiti di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione delle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale. La composizione del Consiglio di amministrazione della SAC al SPA è quella risultante dal recente rinnovo dell'organo che, secondo quanto è verificato sul registro informatico delle imprese, sistema telemaco, è avvenuto nel mese di maggio del 2017, quando la società ha altresì approvato alcune modifiche statutarie. Tale nuova composizione, tuttavia, non risulta conforme alla normativa, di cui al DPR 251-2012, né tantomeno alle disposizioni dello statuto che è stato aggiornato. Si segnala, inoltre, che alla data odierna non risulta stata effettuata, tra l'altro, alcuna comunicazione da parte della società al Dipartimento attraverso l'interfaccia web che, come sopra ricordato, è appositamente dedicato alle comunicazioni di legge relative alla nuova composizione degli organi sociali. Considerato quanto sopra, intendiamo rassicurare gli interroganti che il Dipartimento provvederà entro il mese corrente di giugno all'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, di cui all'articolo 4,5 del decreto del Presidente della Repubblica 251-2012 nei confronti della società SACAL-SPA. Lei ringrazio. Onorevole Michele Dell'Orco, a facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla interpellanza di cui è confirmatario. Io sono quasi emozionato che per una volta il Governo ci ha dato ragione è una cosa incredibile e siamo naturalmente contenti e speriamo, adesso vigileremo, che faccia veramente qualcosa oltre alle parole, ma ci riteniamo naturalmente soddisfatti perché ci ha dato ragione la sottosegretaria. Grazie. 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 Grazie.